Bisogna dare continuità ai risultati, bisogna dare continuità alle prestazioni, quindi il fatto stesso che noi in casa abbiamo un rendimento e fuori casa un altro non deve trarre in inganno perché poi queste cose fanno presto essere dimenticate, magari da una prestazione di un'altezza. Dobbiamo essere concentrati, attenti a non dare all'Empoli la possibilità di sviluppare il proprio gioco e al tempo stesso di essere noi bravi a interpretare la partita perché quando si giocano tre partite in una settimana sicuramente qualcosa cambia e si è visto anche negli anticipi. Quando si gioca di sera, a mio modo di vedere, soprattutto quando sei in casa, ovviamente quando sei in casa il ritiro pre partita diventa troppo lungo e non va bene, facciamo allenamento al mattino, poi il giorno dopo una rifinitura breve, pranziamo insieme e poi la sera allo stadio, ma non è una novità. Il calcio è uno sport di contatto e chiaramente ci sono degli infortuni, sono dei periodi in cui devi cercare di, non dico di inventarti, ma di mettere insieme una formazione accettabile in altri momenti in cui hai l'imbarazzo della scelta, però averne di imbarazzo della scelta con giocatori che si allenano in questa maniera, con entusiasmo, con voglia, quindi va benissimo. Io devo tenere sempre tutti i ragazzi in bilico per cercare di essere concentrati perché se uno pensa magari il giorno prima di non giocare e poi io invece ho deciso il contrario, il giorno dopo a volte qualcuno fa fatica a non accendere la spina, come si dice, a schiacciare l'interruttore e dire boom sono pronto. Quindi devono essere sempre tutti pronti, devono essere sempre tutti convinti di giocare perché è giusto che sia così, siamo dei professionisti, siamo pagati anche per questo e quindi dobbiamo essere tutti a disposizione al massimo della concentrazione. Con Gianpaolo mi sono incontrato due volte, tra parentesi è un ragazzo che stimo moltissimo perché ha fatto una carriera interessante, ha avuto anche un momento in cui poteva approdare a grandi club e non ha avuto la fortuna di poterlo fare ed è una persona che io miro molto. Poi tra parentesi non sono mai riuscito a batterlo, però ho giocato solo due volte quindi non è che fa molta casistica, però le sue squadre giocano bene, ha un'idea di calcio molto interessante e noi siamo attenti anche a queste cose, quindi abbiamo studiato e cercheremo di mettere in atto quelle cose per far sì che loro vadano in difficoltà.